Ehi ragazzi, benvenuti con questo di Goni, oggi ci troviamo su RFQ, la copia di Rainbow Six Siege è praticamente uguale, è gratis, direi estremamente gratis, cioè meno male, che altrimenti sarebbe essere a pagamento, perché è bellissimo, però se avete un telefono che fa cacare, non ci posso fare niente. Allora, sta sotto la targhetta, ecco, sto facendo una battita contro le bot, quindi sarebbero dei computer, per chi non lo sapesse, poi credo che lo sapete. Facciamo gli danno, si bot, poi ragazzi sono botte, quindi a me lagga un poco, perché quando esiste qualsiasi gioco lagga, non so se succede sulla messa o cosa, però qualsiasi gioco lagga un po'. Ovviamente io ci devo giocare in grafica minima, quella lì più bassa di tutte, perché raga, ho detto il mio telefono, non è un granché, quindi, era un granché, era buono quando era uscito, anche se c'erano altri che erano già migliori, però era uno dei migliori. Cioè, ci si mette di così, i pushing, ok. Quanto rinculo che c'ha? Ok, uh, ho fatto l'ultima kill, vero? Yes, ok raga, è bello il gioco, vabbè siamo contro i botti, siamo pure ovvio. Che led shot, che led shot che io ho fatto raga, uccia. Io adesso metto mute, cioè sarebbe la copia di mute, vedete il jammer? Il jammer è per fermare i doni, lo sapete. Allora, se alla fine, come belatori, non è che non sono male, se devo essere sincero. Ma, qua ci metto il reflex, su qui via, a caso, così, il reflex, non lo ho messo, non lo metto mai, questa volta lo voglio metterlo. Vediamo, ma almeno, non ho capito se i nostri alleati, se i miei alleati sono dei botta, anche loro sono dei giocatori reali. E anche questo, capito, mi sa che sono dei giocatori reali. Questa è la coppia di smoke, la coppia di tachanka, la coppia di bandit, se non sbaglio la recluta, e mute. All'inizio vi da tutti gli operatori gratis, non tutti proprio, però alcuni me ne da gratis. Ecco, io mi consiglio, mettete subito il jammer, perché così almeno se arrivano i droni, li fermate subito. Se questo qua non si leva, eh, io non posso piazzare niente. Lo mettiamo qua. Come? Ah, ok. Ok, ragazzi, abbiamo fermato un drone, infatti. Cioè, già abbiamo, già abbiamo disturbato un drone. Eh! A tempo, a tempo! Ah, tempo a tempo, però, lo voglio un po', mettere più qua. Ok. Rinforziamo, dove rinforziamo? Qua. Tanto qua sono dei bot, ragazzi, cioè, neanche, neanche distruggono le pareti. Oh, oh, ragazzi, c'è gente là, c'è gente là. Vabbè, gente, mo', ci sono dei bot là. Andiamo! Uno è anche ferito, quindi fai passare al mio, grazie, che te sei un bot o no. Aiutamolo, aiutiamolo. Ok, se no che facevo, c'è chi lava quello e non lo aiutava, che senso aveva? Cioè, beh, aveva pure senso che facevo la kill e basta. Ma chi se ne frega, che sono stato sputtato, ecco. Tanto mai sono botto, quindi. Ah, è un bel gioco, dai. Metto la copia di Capitao, così. Così. Eh, sì, l'orografico, così. Voglio mettere la copia di Capitao. Anche forse ci vorrei mettere il pompa, però non preferisco i fuggili. Vabbè, pompa qua, che c'è un rinculo, quindi. Ragazzi, vedete questo gioco? Scrivetevi nei commenti com'è, se è bello, se è brutto. E poi, boh, scrivete quello che volete. A me piace. Però preferisco giocarci in grafica massima, ovviamente. Quindi, quando prenderò il nuovo telefono, lo riscaricherò, giocherò in grafica massima. Però, purtroppo, non avrò gli operatori che ho adesso. Però non fa niente, ecco. Cioè, beh, non fa niente, no. Però, mi è l'impressione che li farei qua, raga. Qua sono tutti i bot in questo gioco. Basta che faccio l'allenamento, basta che faccio le battite contro i bot. Faccio un bot di kill, perché, raga, sono bot. Le kill ve le fate easy, easy. E fate famata, fate tanta fama, no. Easy. La cosa è che, da poco, quando aggiunto le classificate, raga, i player sono già forti là. E poi, raga, se lo vedete per una cosa, i bot sono anche easy da uccidere. Tipo con la coppa di Capitao, no, che proprio lo Capitao. Perché, sono tutti dentro l'obiettivo. Cioè, si chiudono là dentro e via. Se gli buttate il fuoco, no, con la balestra. Allora, ve li fate easy. Pure, tre, quattro, ve li fate easy. Quindi, raga, ve lo consiglio. Ecco, raga, tipo questo qua, si sta facendo tutti. Perché sono le po... Dov'è? Vabbè. Eeeh... Entriamo, così. All'oma da fac... Ma, ma... Ma nemmeno ne potevate lasciare uno. Dai. No, vabbè. Ma, farlo di pistola. Ma... No, 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 non ce lo poteva fare di pistola. Vabbè, raga. Spero che vi dici a piacere su me e pollice in su. Scusate, ci sono mancato, raga, ma... Purtroppo ci sono le migliorazioni. Ce l'avete tutti. Anche voi ce l'avete, suppongo. Eeeh... Cercherò di fare più video. Eeeh... Spero che il video vi sia piaciuto. Su me e pollice in su. Iscrivetevi al canale, ci piace, quindi vi vedete. E... Ciao. Sono secondo. In realtà dovrebbe essere il primo, perché vi sono fatte tutti io, comunque. Ciao.